ciao ragazzi e ragazze allora vi ricordate che vi feci vedere quella rivista fatta in smr ne ho trovata un'altra quindi ho detto ora ci faccio vedere sto mettendo a posto ed è uscita pure questa questa è spettacolare ragazzi qua ci sono 21 creazioni perle di vetro rocaille, madre perla perle a goccio e montaggio su filo metallico guardate questi qua che belli sono bellissimi guardate questa collana non mi ricordavo nemmeno di tenerlo questo qua che belli vediamo guardate che belli poi questo guardate questo collana in bianco e nero che belli questi tutorial questi collane chissà se c'è qualcuno che possiamo fare insieme ma io vedo che sono sono pure complicati però che bello avete visto quanti ne tenivo secondo me escono un sacco di questi libri perché io comunque di queste riviste perché io le compravo che bella questa è fatta con il filo metallico qua ci sta lo schema poi questi anelli io gli anelli poi per esempio non li so fare proprio guardate questa bella questa qua bella eh ragazze questa se vi piace vediamo qua fatemi sapere quale vi piace però qua io il filo metallico non lo so proprio usare non mi bisticcio con i fili metallici se non mi sbaglio io questi libri li trovai perché quelli qua sono scritti 4 euro ma secondo me questi sono quelli là che io trovai al mercatino che costavano più poco poi io mi compravo fashion jam infatti tipo trovarli perché sicuramente ci sono pure quelli lì buttati da qualche parte a casa non lo so non è che mi non lo so bello questo con la questo per esempio mi ispira molto il girocollo che carino questo qua cioè hanno messo questa specie di collarino e poi ha fatto questa specie di cosa cucita questo è carino una parola a farlo come tutorial ce lo devo fare prima da sola e poi devo vedere se ci riesco devo dire la verità quello che mi piace di più è proprio il collarino eh ragazze sì questo qua è il più bellino questo qua a livello di collarino qua sono fatti con il filo metallico sì quello che mi colpisce di più è il collo ah eccolo qua un altro girocollo sono i girocolli quelli che mi piacciono di più devo dire la verità eccolo qua vedete cioè perché è come se ha cuscito sopra qui questi sono molto carini i girocolli mi piacciono assai devo dire la verità mettiamo il segno i girocolli sono proprio carini come si fa c'è scritto pure qua forse evidentemente vedete c'è lo schema uno deve capire un po' come vedete infermaglio anello moschettone perle di rocaia cucire sul nastro zige zag eh questo è molto carino e quell'altro chissà se ce n'è un altro vediamo ah di girocollo può essere che c'è sfuggito no sono solo due di girocolle i girocolli sono molto carini e niente ragazze vi mando un bacio al prossimo video ciao 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 ciao